Eccaminati i video? No! SI! Porco... Tenzin! Mila di brasi... Come cazzo ti rivolti? Mi devo rivoltare! Senti a un tessino rivortellata... Oh lo scudo... Oh lo scudo! Lo scudo dello scudo Ecco, proprio così così non vedo niente Proprio così così Eh, infatti sto tornando indietro Eh sì, ma questi sono problemi suoi Cazzi suoi, veramente Ma io soffo di solitudine Oh, bada chi è? Te, vieni nelle scale mobili Non sono fermi Aia, mi sono fatto male No, questa bella quina sciacquo le nognola Mi sciacquo le palle Il catergine Dove una trombata Ma, il trapassato Ma che polveraccio ha fatto? Ma cosa sei questo affare di cesso? Bellissimo questo scontro Bellissimo, come un cesso di cesso Fammi a battere fra l'oro di rompere orioni Ma insomma, vedi se Non è poco Ma non è tanto Ma rimma Te, cos'è stupia Ti do una pacca Ti rinchiude la forbola Ha finito Possiamo creare un condensatore Anche con i peli Un condensatore Che condensi la merda Samalayan Venerdì mattina Il filosofo più selvaggio Venerdì mattina Sando canta Madonna Ma Cristo si è sacrificato per dei cervelli come il tuo Ma è il tuo Visto che stavamo parlando di Pokémon Il canale preferito dai Pokémon Raichu Madonna Preparatevi a passare dei guai Dei guai molto grossi Proteggeremo il mondo Dalle vaste azioni Cuideremo tutti i popoli La nostra azione Difenderemo il male Della verità e dell'amore Estenderemo il nostro potere Soprattutto per le stelle Io sono Alessandro E io sono venerdì mattina E lui è Sargon Il temibile gatto parlante Il gatto parlante Non gli è stato utile il braccialetto Cioè tu va Sì Devi santo Chi è chi è chi è chi Chi è chi canto Io cani E un tia Smenti di girarmi intorno Se mi fa venire il capo Quando sono giro Tu mi fa girare il capo Un bacino Faci lo maco Fa vede io Ti fide un moscino ti prendi le gambe e ti riesci anche ti fa venire la pagina anche se non tu ce l'hai oi oi a puttana c'è la madonna stronza vandia via passa vai se no tu mi devi rompere l'oglione anche se è stato gestione ma cosa mi fai? abbiamo finito e allora adesso c'è il punto meglio sinistra università bloccato o no? no no sei bloccato no che coglione vai si inizierà il martin problemi tecnici già fatta sembra oh grazie grazie satana per aver ascoltato le mie bestemmie ho portato una soca sono da ripetare tutte boh ma è ora inizio veramente perché c'è una lezione diretta? I flessi se non è stato Ma come no, puttana di leva cioè ho perso ciò nei giorni a leggimi il diritto e te mi diciamo già il possibile cioè... io mi resta a fare, sto se me lo fico un culo davvero Mi pulisco il colon Il colon Ma che è? La culonscopia Ma... ma non è anche finta Vabbè che sono un po' inopposente però lo esageriamo Ma che cazzo hai fatto? Ma che cazzo hai fatto? Mi schifo ha spasacchiato Tu sono amaro, le flacche Ah, io le... Bene Bene Premi invio quando desideri Quando vuoi Premi invio Adesso! Cos'è? Che figlio Che palle Se ne ha fatto prima, le figlie Posso rubare io? No, sei un assino Sei un due di picche Sei un assino Sei un assino E' un buon assino Che ridere Che non ridere Che ridere Che ridere Ssss Vai Sargon Ma passata di tu far prima Si fa il bug? Direi di no Si Ti prego C'è uno C'è uno C'è uno C'è uno C'è uno Ma la puoi uccidere o no? Si Oh cazzo di Buddha Brutti morro che mi stacca la testa tua Ma li puoi uccidere o no? Io non ho capito che tu puoi uccidere uno o no? Si o no? Eccoli Li puoi ammazzare in tutti i modi Via Ah c'era Ti ricordi c'è l'ultima venerdì mattina nella trappola? Ahia Non mi fa male Passi millenette eh Oh cazzo C'era l'unogramma Ma è Lenzo Perché? Bubuset V...v...v...v...v...v...v...v...v...venerdimattinaeeaaa V..Vu...v...v....v die scene L-O-O-O-Oh La musica mi gamba Vai Fai ...attiralo Attiralo OH Mi tira 座 Senale d'arco Se si fa cascata di sotto? Eh, prova qualunque Ecco Fa il giro Ma sai come in mezzo d'occhio non c'è il corno? E se vede le pallotte di mattina fanno il giro speciale Vai, vai, ora Un suo siro Bravissimo Madonna Ci danno? Ma vai, vai al giro della tomba Ma che cazzo Non c'è davvero Ma che lecce inizie Ma è ciuo questo venerdì mattina, ce ne ha solo 9000 Suo a chi è? Pallatore non si lascia 50 volte, suo Ah, è morto? No, guarda, è vivo Ma c'è massa lombra Che fa le cose di culturismo Aspetta, chi vuole provare una cosa? Salva Provo io? Cosa vorresti fare? Vai avanti allo scudo Meno 3493 3,3 E ciò vuol dire che toglie sui 15.000 Quello affare Ciao Ma dig senso Ciao 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 Ciao